Musica Questo è il numero 67 di 30 minuti giovani. Cominceremo con la prima pagina in cui i ragazzi giornalisti di Marco D'Anni avranno il consueto collegamento con Giampaolo Ormezzano, direttore di Tutto Sport. Per uno scambio di idee su questa fase calda del campionato mondiale di calcio. Seguirà un servizio speciale su una iniziativa congiunta tra il WWF, il Fondo Mondiale per la Natura, e la Marina Militare. Si tratta di una mostra allestita per la difesa del Mediterraneo ed è stata appunto allestita su una nave Americo Vespucci. Successivamente un servizio di sport, lezioni di motocross. I campioni della specialità cercheranno di spiegare ai ragazzi quali sono i loro segreti per correre tra prati e fossati.